Dopo la nascita di un figlio, i papà devono avere un congedo pagato di due settimane. Lo ha deciso il Parlamento quale controprogetto a un'iniziativa che chiedeva quattro settimane di congedo di paternità. Contro questa proposta è stato lanciato il referendum. Secondo gli oppositori, il congedo di paternità pagato è costoso, irresponsabile e abusivo. Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, invece, grazie al congedo, i papà potrebbero partecipare più facilmente alla cura del neonato, alleggerendo il lavoro delle mamme. Di che cosa si tratta in dettaglio? Dopo la nascita di un figlio, le mamme hanno diritto a quattordici settimane di congedo di maternità pagato. Attualmente, i papà hanno diritto per legge a uno o due giorni liberi. Alcuni datori di lavoro concedono un congedo di paternità più lungo. Il Parlamento vuole che in futuro tutti i papà abbiano diritto a due settimane di congedo di paternità pagato. Il congedo può essere preso nei sei mesi successivi alla nascita, in una volta sola o a giorni singoli. In questo periodo, i papà riceverebbero l'80% del loro stipendio, al massimo 196 franchi al giorno. È la stessa tariffa applicata alle donne durante il congedo di maternità. Il congedo di paternità di due settimane verrebbe finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno, IPG. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stima i relativi costi a 230 milioni di franchi all'anno. Per finanziare questo congedo, i contributi IPG dovranno essere aumentati. L'aumento sarebbe di circa 50 centesimi per 1000 franchi di reddito. Il datore di lavoro e il lavoratore si farebbero carico ognuno della metà. Questa modifica di legge rappresenta un controprogetto all'iniziativa popolare per un congedo di paternità ragionevole. L'iniziativa, che chiedeva un congedo di paternità di quattro settimane, è stata ritirata a condizione che entri in vigore il congedo di paternità di due settimane. Tuttavia, contro la proposta del congedo di due settimane, è stato lanciato il referendum. Il comitato di referendum argomenta che il nostro paese si trova in una grave crisi economica. Molte famiglie non sanno come arrivare alla fine del mese. A causa delle deduzioni più elevate dallo stipendio, si riduce per tutti il denaro disponibile. E questo per permettere ad alcuni papà di poter beneficiare di un congedo di paternità pagato. Questa nuova assicurazione sociale è costosa, irresponsabile in un momento di crisi economica e insostenibile per le PMI. Per il Consiglio federale e il Parlamento, il congedo di paternità facilita la partecipazione del papà alla cura del neonato, favorendo una divisione dei ruoli basata sul partenariato. Con questa modifica di legge, tutti i papà godrebbero dello stesso diritto a un congedo minimo. I costi per il congedo sarebbero sopportabili e le imprese potrebbero superare il periodo di congedo senza oneri eccessivi. Due settimane di congedo di paternità rappresentano una soluzione moderna di ampio consenso. Per queste ragioni, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno.